Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle 7 signori miei Altro episodio dei gamberetti, allora noi nell'ultimo episodio se non ricordo male abbiamo fatto proprio disastro più totale Quindi abbiamo cercato di rialzarci il più velocemente possibile Abbiamo appena di partire col video, ragazzi io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che darete a questa serie E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram Comunque il link li trovate in descrizione e se volete sostenere il canale con delle donazioni Trovate anche in descrizione il link per poterle farle, detto questo partiamo con il video Ok ragazzoli, allora intanto prima cosa, prima cosa, prima che nei commenti mi uccide, mi fate male Allora andiamo a recuperare i difensori Che mi avete detto che c'è un difensore che si allena da centrocampista Uno contro uno attaccante Scenari difensivi esperti, scenari difensivi esperti, scenari difensivi esperti, scenari difensivi esperti Chi è che si sta allenando da Harwood? Si sta allenando da tutti i scenari difensivi esperti Allora chi è che si sta allenando, forse è un centrocampista che si sta allenando Mamma mia, i scenari difensivi esperti Ok, ero un centrocampista e si stava allenando da difensore Cunningham? No, Cunningham ti devi allenare da centrocampista Non da difensore Intertenzione controllo palla No, normale, difficile, velocità, difficile Aspettate un attimo Scenari difensivi esperto? No, non devi allenarti lì Qualcosa che riguarda la velocità Controllo palla scivolata Intercettazione, controllo palla, controllo palla agilità, dribbling Oh, ok, questo E però è normale, e va bene Ti allenerai lì in manina normale, zio Forse controllo palla agilità e dribbling Eh, ti allenarai lì normale Poi dobbiamo mettere altro COC Se non sbaglio dovrebbe essere Ampadu, pensa No, si, Ampadu Come si chiama? Dove stai? Amponsa, ecco, Amponsa, no Ampadu Scenari difensivi esperto? No Ehm, dribbling Uno contro uno? No Corsa contro il tempo Controllo palla, velocità, scarta, agilità e dribbling Perfetto E qui che ci mettiamo? E qui ci mettiamo Bella domanda Ehm, qui ci mettiamo Ehm, lui, Albares E così, a buffo, raga, a buffo Velocità, controllo palla Dribbling e agilità Beh, allenati lì Forse un giorno diventerai qualcuno Alleniamo i centrocampisti centrali Che non sale nessuno Tutti svogliati, raga Tutti citrani Albares Che è contento che sia allenato con noi E in prima squadra Ed è contento Detto questo, ragazzoli Avanziamo con il calendario Io Dovrei aver risolto il problema del microfono, raga Quindi spero mi sentiate bene Io Verificherò dopo A video registrato Se c'è l'audio Oppure dovrò andare a Ehm Ri Ripattivamente Registrare tutto l'audio Allora, abbiamo la partita Naga, Naga vuole giocare Vediamo un attimino Se abbiamo delle mail interessanti Naga vuole giocare Ci penserò Amponsa vuole pure giocare lui Amponsa, già sei arrivato E già detti leggi, amico mio Amponsa è mio Amponsa è mio Allora Claudio e Morris Io faccio giocare loro Naga, mi dispiace Ma sono i miei titolari Sullivan Mariani Lo facciamo uscire E facciamo giocare Amponsa Che è contento Raid Nicholson Mitchell Salazar Hamilton E il piccolo drollo McKill E Naga E l'unico che mi porterei E E L'unico che mi porterei E Mariani Ce l'ho già in panchina Va bene Va bene così Va bene così Speriamo che Harwood Non si arrabbi Che praticamente Lo stiamo lasciando in panchina A questa partita Noi servono i tre punti Raga Noi servono i tre punti I ospiti contro la MK Ad Ons Loro vengono da una vittoria Contro il Colchester Siamo fuori casa Che ci facciamo noi 3 a 1 Bello Prendi e porta a casa Va bene così Hanno segnato Salazar Mitchell E Nicholson Bella così Vittoria prepotente Uscito il raid Per casa dei Va bene Naga si arrabbierà tantissimo Raga Naga si arrabbierà tantissimo Perché non ha giocato Però Dobbiamo cercare sempre Di fare il bene della squadra Raga Dobbiamo cercare sempre Di fare Continua a lavorare sotto Naga La prossima partita la giochi Non ti preoccupare Ottimo lavoro Per Amponsa Bravo Amponsa Centrocampo ha giocato bene Continua a fare gli allenamenti Raga Questa volta mettiamo Gli attaccanti Sì Va bene Simula tutto Dai così Bramman Il portiere sale Naga diventa un 68 E ora diventa difficile Raga Ora diventa molto difficile Perché Naga sta crescendo bene Claudio un 69 Morris Eppure un 69 Abbiamo degli signori Attaccanti Raga Siamo decimi in classifica 17 punti Siamo lì Signori miei Siamo lì Dobbiamo cercare Di mantenere il passo Dobbiamo cercare Di mantenere il passo Prossima partita Allora Serie di me che andiamo a vedere subito Giocatori impegnati con la nazionale Bra Raja Con l'India Giornamento dell'osservatore Ok Dall'Argentina Mamma mia Che c'ho feche Che mi ha portato questo All'Argentina Mamma Uno peggio dell'altro Raga Infortuna Allanamento Salazar 6 settimane di stop Ma porca miseria Salazar mio Proprio ora che Diciamo Entriamo nel vivo Che mi servi Praticamente Allora Facciamo uscire Morris E facciamo giocare Naga Prima che si arrabbia Di brutto Fuori Salazar Dentro Harwood Salazar è rotto Quindi facciamo uscire Lui per Bats Per Bats Per Bats Per Bats Cannigam Lince Salazar Niente Giochiamo così Giochiamo così Sì Giochiamo così Guarda Mi porto il The Rock Dei Poveri A posto di Stockholm Mi porto il The Rock Dei Poveri A posto di Stockholm E poi non cambierei nulla Va bene così Diamo ancora fiducia Ad Amponsa Centrocampo Raga Diamo ancora fiducia Ad Amponsa Che è l'ultimo arrivato Ma si è preso Si potrebbe già Essere preso Il posto da titolare Giochiamo in canza Contro lo Swindov Loro vengono Da una sconfitta contro il Colchester Raga siamo in casa Loro vengono a una sconfitta Vi prego Vi prego raga Dai Camberetti 4-0 Mamma mia Mamma mia Gol di Amponsa Il nostro baffetto d'oro La apre lui Doppietta di Naga Che si prende La titolarità Con vendetta Praticamente E un gol di Morris Dalla panchina Sono entrati Morris e Casadei Per Claudio e Raid Bella così 4-0 Importante Raga 4-0 Importante Bella così Nessuno si lamenta Meglio Meglio per noi Facciamo gli lamenti Ancora con gli attaccanti Dai Breman continua a salire Breman diventa un 63 Buono così Bravo Breman Bravo Breman Bravo Breman Bravo Breman La squadra c'è Raga La squadra c'è Dobbiamo riuscire a mantenere Questa Questa mentalità Partita di Coppa La Leasing Trophy È arrivato Nicky Come osservatore Vediamo che ci ha portato Lo Ua 66-90 Lo continuiamo a seguire Bonsu No Bonsu Non è Bonsu Per niente Dior è un portiere Non ne posso più Di portieri Koruma No Diagana No E l'ultimo è Dudu Teco Dudu Teco Dudu Lo continuiamo a seguire Non sembrerebbe male Teco Dudu 75-94 C'è già 17 anni Però già è bello vecchiotto Però li continuiamo a seguire Questi due Allora raga abbiamo una partita di Coppa contro il Wimbledon Io direi Facciamo giocare i panchinari raga Ovvero Stockholm È il The Rock dei Poveri Sulla destra gioca Casa Dei Al centrocampo giocheranno Cunningham e Mariani Sulla sinistra facciamo giocare Esposito A posto di Mitchell gioca Lindsay Harwood lo deve giocare però A posto di Hamilton può giocare Watts E al posto del piccolo Drollo Gioca Raja In porta facciamo Diamo un turno di Di possibilità A Breman Perderemo male raga Lo so perfettamente Ma le coppe non sono il nostro obiettivo In questo momento Le coppe non sono il nostro obiettivo Però mi servono per far giocare Ai miei panchinari Contro il Wimbledon Andiamo belli tranquilli Facciamoci questa passeggiata Proviamo a scendere in campo Che c'è famo? Ci pareggiamo 1-1 Peccato Mannaggia Gol di Stockholm E' andato in vantaggio noi E poi abbiamo perso 4-3 rigori La seconda partita E perdiamo i rigori Pure vi ricordate Nel trofeo estivo Abbiamo perso i rigori Mannaggia I rigori sfortunati Per i gamberetti I rigori sfortunati Però vabbè Era la coppa Ci può stare Ci può stare Una partita di coppa Mi sta bene Mi sta bene raga Allora Il prossimo A Ponsa Dai però Se non ne giochi una Già ti lamenti E che paranoia che sei Rimettiamo i titolari Ovvero Claudio E Morris Questa la giocano loro Naga si può lamentare Quanto vuole Ha fatto doppietta L'altra volta Gli deve bastare Sullivan Qui giocheranno A Ponsa E Raid Che è distrutto Sulla sinistra Nicholson Sulla sinistra ancora Mitchell Arwood va bene Ed Hamilton Raja fuori Per il piccolo Drollo E in porta McKinley E forse Un'e cosa farei Leverei Mariani Più riposato Quindi facciamo giocare Mariani A Ponsa E così siamo tutti belli Tranquilli C'è qualcuno Che deve rompere le scatole No Siamo tutti tranquilli Mi porto Naga Al posto di Stockholm E va bene così Va bene così Giochiamoci l'ultima partita Della giornata Raga Vediamo se riusciamo A portarci la terza vittoria Su tre in campionato Raga Aspettate Fatemi rispondere a questa mail Se no poi si arrabbiano A Ponsa Va bene Si la giochi A Ponsa Minimo Però sta iniziando a pretendere Troppo A Ponsa Sei appena arrivato Già pretendi Vediamo se riusciamo A portarci la terza vittoria Raga Loro vengono dal pareggio Contro lo Strasbury Contro il Rotterdam Dagli raga Dagli raga Dagli raga Dagli raga 1-0 Gol di Naga Bella così Raga Tre vittorie su tre Bellissima Bellissima La squadra c'è Raga Squadra c'è Gol di Naga Che è entrato al posto di Claudio Al 49esimo Ammoniti Hamilton E Mitchell Tre vittorie su tre Raga Bella così Bella così Tanta roba Tanta roba Magnifica vittoria Avete ragione Siamo settimi in campionata 23 punti Raga Siamo a tre punti Dalla zona playoff Per andarcene In championship Raga Bellissimo Ottimo episodio La squadra c'è La squadra c'è Signori miei Detto questo ragazzuoli Io vi ringrazio Vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i suggerimenti Spero Che la serie vi possa appassionare Come sta appassionando a me E che un giorno Forse riusciremo a vincere qualche cosa Detto questo ragazzuoli Io vi saluto Vi ringrazio per la visione E ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao